Ci vuole un cuore forte per guardare una partita così, ci vogliono anche gli attributi per riequilibrarla. Sì, soprattutto quelli. Sì, siamo passati in vantaggio anche troppo presto forse. E poi abbiamo ceduto a campo la Sampdoria, cosa che non deve succedere, cosa che era successa anche a Chievo nel secondo tempo. Però poi nel secondo tempo secondo me abbiamo avuto una reazione da vera squadra, come hai detto tu con gli attributi. Per cui ci teniamo stretto questo punto conquistato. E' la teoria dei piccoli passi, se vogliamo. Un pareggio, un pareggio, un pareggio. Siete sempre più vicini e non ci siete ancora perché l'Empoli ha vinto. Sì, esatto. Manca poco, manca veramente poco all'obiettivo. Ce l'abbiamo a portata di mano. Possiamo già, ormai è un po' che lo diciamo, però possiamo già raggiungerlo lunedì prossimo col Bologna, col derby col Bologna. Per cui vedremo di preparare la partita come abbiamo preparato le ultime. Hai aspettato un po' di tempo, un po' di anni per fare questo gol. Sì, però alla fine è arrivato. Sono contento di averlo fatto a Parma, col Parma per il Parma. Perché è la squadra dove sono cresciuto. Poi davanti alla mia famiglia, alla mia moglie, è tutto più bello. Era ancora più bello se combaciava con una vittoria, però comunque combacia con dei punti utili per la salvezza. Usciti il primo tempo e qualche fischio è arrivato. Dal punto di vista psicologico è una partita molto complicata perché rischiavate di implodere dopo il terzo gol. Sì, di solito dopo il 3-1 si fa fatica a tirar fuori la testa, però come ho detto prima oggi abbiamo tirato fuori gli attributi e abbiamo ripreso la partita da squadra vera. A chi dedichi il primo gol in Serie A? Lo dedico, come ho già detto, a tutta la mia famiglia, a mia moglie, ai miei bambini, che mia moglie me lo chiede da una vita, però non l'ho mai accontentata. Oggi l'ho accontentata e poi lo dedico a un mio amico Mirko, che è un bimbo di Borgotaro che sta lottando per una partita molto più importante. In quest'ultima parte di stagione stai trovando più spazio. Come valuti complessivamente la stagione a livello personale? Io sono a disposizione del mister, sono a disposizione della squadra, di tutti. È normale che si vuole sempre giocare di più perché chiunque giochi a calcio è normale che voglia giocare. Però mi rendo conto, accetto tutte le scelte tecniche che ha fatto il mister. Io sono sempre stato a disposizione e alla fine mi sto rendendo utile alla causa. Hai divento esperto. Cosa poi si è successo in questo girone di ritorno? Ma è successo che magari inconsciamente molli un po' la presa, cosa che magari non succedeva nel girone d'andata, ma inconsciamente, non di certo volutamente. Capita che magari una partita anziché pareggiarla la perdi, anziché vincerla la pareggi e via dicendo.